Hai notato che i pomodori maturano anche in questa stagione? Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? Ma sì, fa talmente caldo che non c'è neanche più bisogno della serra. A me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. Cibo, produzione agricola, trasformazione, trasporto, rifiuti, impattano sul cambiamento climatico. A pochi giorni dalla COP21 di Parigi e dalla Marcia per il Clima di Roma, Expo dei Popoli propone di assumere l'agroecologia come riferimento e chiama esperti e decisori politici italiani e stranieri a confrontarsi sul tema all'acquario civico di Milano il 25 novembre dalle 9 alle 13. Info expodeipopoli.it